La Lega bacchetta il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, riguardo la sua decisione dell'ordinanza del 9 febbraio 2022 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Qualche giorno fa il governatore aveva dichiarato alla stampa la decisione di tenere fino a fine febbraio i presidi di sicurezza. Non è un grande sacrificio. In Campania noi saremo più prudenti che del resto d'Italia a volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro. Ma non è così. Bisogna essere estremamente prudenti. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, teniamo la mascherina qualche settimana in più in Campania così stiamo più tranquilli, ha rimarcato De Luca. Ma la Lega non è d'accordo con il pensiero di De Luca in tutta Italia dall'11 febbraio via le mascherine all'aperto, tranne che in Campania. Una scelta in controtendenza quella del governatore De Luca che si ostina a imporre scelte che nessuna regione italiana condivide. Il presidente dovrebbe spiegare ai Campani le reali motivazioni che lo inducono, con questa forte ostinazione, a imporre regole diverse rispetto alla linea del governo e dei suoi colleghi governatori. In tutta Italia si festeggia per un primo segnale di libertà e ritorno alla normalità, mentre in Campania continuano limitazioni e in posizioni. La gente è stanca, il presidente chiede fiducia, ma non è disposto a concederla. Non se ne può più. Questa è la nota ufficiale della segreteria regionale della Lega in Campania contro la decisione di Vincenzo De Luca sull'utilizzo delle mascherine all'aperto.